Buongiorno, oggi un video veloce per risolvere una questione pratica, cioè collegare una fotocamera Sony Alpha a un PC tramite cavo USB. La procedura è semplice, però c'è un piccolo inghippo in questa procedura che se non si sa come risolvere si perde un sacco di tempo e visto che io l'ho perso cerco di risparmiare questa perdita a voi se vi interessa questa procedura. Allora, perché collegare una fotocamera al PC tramite USB? Beh, per usare il PC e scattare in remoto dal PC con la fotocamera. A me serviva l'altro giorno per fare dei test di scatto fotografico e utilizzando la fotocamera dal PC non solo potevo utilizzarla a distanza ma anche cambiare più velocemente, variare più velocemente i settaggi. Insomma, era più pratico. Allora, sul PC per fare questa applicazione, per farlo dialogare con la fotocamera, oltre al cavo USB, serve installare l'applicazione gratuita di Sony Imagine Edge Desktop. Questa applicazione è composta da tre applicazioni in verità, Remote, Viewer e Edit. Abbiamo visto alcune di queste applicazioni la scorsa estate perché ho fatto un video per far vedere come funziona il pixel shift, la ricombinazione degli scatti della A7R3, poi magari ve lo metto in descrizione. Comunque, quello che useremo oggi di questa suite Imagine Edge Desktop è l'applicazione Remote. L'applicazione Remote, nel momento in cui io premo su Avvia, se tutto va bene, mi fa vedere ciò che la fotocamera vede attraverso l'obiettivo. Ora, per farvi vedere la schermata che sto registrando e quindi come va a impostare la fotocamera, ho connesso l'HDMI al PC tramite Cam Link, quindi appena vi ho fatto vedere i settaggi, stacco l'HDMI, attacco l'USB e finiamo la procedura. Allora, dov'è il problema? Se io ora, come ho impostato la fotocamera ora, attaccassi l'USB, il PC non vedrebbe correttamente la fotocamera e nemmeno Imagine Edge. Per far vedere la fotocamera e la PC bisogna andare nelle impostazioni, nel caso dell'A7R3 e la schermata 4 del menu, e entrare in collegamento USB. Però vedete, collegamento USB, il problema è qui, non è attivo. Questo perché è attivo il controllo tramite smartphone, allora devo andare nel menu con il mappamondo, andare su controllo smartphone, disattivare controllo smartphone, dopodiché premo menu, torno nelle impostazioni, schermata 4 e a questo punto collegamento USB, selezionabile. Vi consiglio qui di selezionare la voce controllo remoto da PC. Se non ho letto male, sul manuale Sony dice che si può utilizzare la voce automatico, però su automatico a me non funziona, quindi invece con controllo remoto da PC sì. Ok, a questo punto che vi ho fatto vedere la configurazione al menu, stacco un attimo l'HDMI, attacco l'USB e andiamo a registrare, a vedere l'impostazione che ha effettivamente successo. Allora, spengo la fotocamera, stacco HDMI, l'USB l'avevo già attaccata, c'è un sacco di cavi, attacco l'USB a questo punto, riaccendo la fotocamera e dovremmo sentire che il PC ha visto, sente la fotocamera. Ok, quindi a questo punto io clicco su avvia remote. Ecco, avendo fatto quell'operazione vedo, per eliminare del menu, vedo il modello della Sony, altrimenti non si vedeva. In questo caso nell'elenco, doppio clic sul modello, un attimo perché la fotocamera si connetta al PC. Ecco, ora io ho il tappo davanti all'obiettivo, ma altrimenti qui vedrai cosa, e anche voi vedrete cosa sta inquadrando e da qui posso andare a pilotare a fotocamera a distanza. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, like se è così, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo presto, ciao! Ciao!